Barbanera, ecco il vero lunario Barbanera! Sul suo tavolo di lavoro fu trovato un lunario Barbanera, che alla data del primo marzo di quell'anno segnava la morte di un uomo illustre. Egli aveva fermato la sua attenzione su questa notizia e l'aveva sottolineata. Il calendimarzo era uno dei suoi giorni fausti, diceva di preferirlo al calendimaggio perché è esso che ci porta veramente l'annunzio della primavera.